Sarà un 2023 ricco di iniziative, alcune delle quali completamente nuove, quello del Centro di Servizio per il Volontariato di Belluno e Treviso, con un occhio di riguardo, come di consueto, al mondo dei giovani. La prima in cantiere con vicina scadenza è quella del Servizio Civile Universale, che scadrà il 10 febbraio. Il CSV garantisce un servizio di orientamento e di accompagnamento alla scelta migliore dei propri progetti, fornendo un percorso e un'evidenziazione di quello che il territorio offre. Quindi per tutti i ragazzi entro i 28 anni ci si può riferire al CSV di Belluno per essere affiancati nella scelta migliore. Un CSV sempre più aperto e attento anche al mondo digitale e del web, con una novità che riguarda proprio il sito internet del Sodalizio. Tutte le ETS del territorio possono avere una rilevanza nel calendario del nostro sito, si chiama proprio volontariato in vetrina, e possono raccontare i propri eventi che durante l'anno fanno, per avere più pubblicità e riconoscenza nel territorio. E a proposito di nuovi strumenti di comunicazione e linguaggi multimediali, in autunno il CSV di Belluno e Treviso proporrà un'iniziativa del tutto nuova, in ricordo di un grande amico del volontariato bellunese. Lanceremo un festival di cortometraggi in memoria di Roberto Bristot e sarà un'occasione per tutte le associazioni che avranno voglia di raccontarsi, di presentare una propria storia all'interno della quale ci sarà la possibilità di farsi conoscere, anche vera data risonanza territoriale ma anche nazionale, a tutto il mondo del volontariato.